Il medico gioca in squadra con te. Quando il tuo medico non riceve, puoi andare nell'ambulatorio di un altro medico dello stesso raggruppamento, che può accedere alla tua cartella sanitaria e informatica e rispondere alle tue necessità. Trovi sempre un medico di medicina generale disponibile nel proprio ambulatorio dalle 8 alle 20. Consulta gli orari e le sedi sul sito aziendale e in tutti gli ambulatori dei medici di medicina generale.